Al Centro Culturale Casa Zanussi di Pordenone, premiazioni del premio internazionale di multimedialità a cui hanno partecipato migliaia di studenti dall'Italia e dall'estero. Il premio Video Cinema e Scuola è andato a una studentessa universitaria spagnola che nel suo lavoro The Tragedy of Mr. Chu ha unito le suggestioni del cinema mutuo alla frenetica rappresentazione del quotidiano di una città contemporanea. Nella sezione Scuola Secondaria di Secondo Grado, premio Presenza e Cultura ad uno studente del secondo anno del liceo Leopardi Majorana di Pordenone per il suo avere 15 anni non è una cosa facile, un ironico bilancio del proprio passato per puntare l'obiettivo sul proprio futuro, sorridendo.